Incontriamo Demetrio Migliorati, Innovation Manager di Banca Mediolanum, che si definisce un fanatico della blockchain. Ciao Demetrio. Che cosa significa fare innovazione oggi in una banca come Mediolanum, nel mondo del finance? È una meravigliosa sfida perché le banche in questo momento sono sotto pressione per tutta una serie di motivi che vanno dall'evoluzione del fintech, alcune tecnologie che stanno cambiando, il comportamento dei clienti che sta cambiando, c'è una pressione da più lati, però le banche hanno una grande riserva di fiducia da parte dei consumatori. E quindi in questo momento, in particolare una banca bella come la Banca Mediolanum, in cui c'è questa grande cultura del cliente al centro, questa grande cultura della relazione, fare innovazione vuol dire trovare metodi nuovi per rimettere sempre di più il cliente al centro, sempre più fare leva sulla nostra grande forza che è la relazione, in un modo un po' diverso, in un modo un po' più ingaggiante. In questo momento trovo che sia un bellissimo periodo perché ci sono grandi possibilità che si sono affacciate, un po' per la tecnologia, un po' perché nuovi paradigmi portati, diciamo questa ventata nuova del fintech, in realtà ci ha fatto capire che i clienti sono pronti anche ad accettare altri paradigmi e quindi credo che noi si stia vivendo un bellissimo periodo di cambiamento. Hai parlato di fiducia nei confronti del consumatore utente, la fiducia invece nei confronti di altri profili aziendali, come te la sei guadagnata? Abbiamo lavorato intensamente nel far capire in che cosa potevamo aiutare le altre direzioni dell'azienda, abbiamo fatto un grande lavoro sulla cultura dell'innovazione. L'innovazione non si inventa, l'innovazione è un processo assolutamente razionale che deve essere portato avanti da tutta l'azienda, diciamo con tutti gli stakeholder che svolgono il proprio ruolo, quindi noi abbiamo identificato un percorso che abbiamo chiamato funnel, all'interno del quale abbiamo distillato le diverse idee con l'aiuto del management aziendale. Abbiamo la fortuna di avere, come dire, un top management illuminato che ci ha aiutato nelle decisioni finali sui progetti che abbiamo deciso di portare a sperimentazione definitiva, ma tutta quest'opera è stata supportata un po' da tutta l'azienda, cioè è stato grande entusiasmo. Noi abbiamo gruppi di Yammer dove ci sono centinaia e centinaia di persone che discutono di innovazione, di novità, di cambiamento, di nuovi paradigmi, quindi io credo che, sicuramente siamo stati fortunati, perché un ambiente così forse non si trova in tutte le banche, però è veramente, ti dico, una sensazione entusiasmante. Sei fanatico di blockchain, perché? Perché è qualcosa di completamente nuovo, non tanto per l'aspetto tecnologico, quello che mi ha colpito sin dall'inizio è il fatto che per la prima volta nella storia dell'umanità l'uomo ha delegato un algoritmo, quella particolare fiducia che occorre per fare uno scambio di proprietà. Ovviamente all'inizio uno scambio di proprietà molto semplice, quale può essere una moneta, ma adesso stiamo arrivando a complessi paradigmi di scambio di proprietà. Abbiamo, diciamo, imparato cosa sono gli smart contract, abbiamo imparato come poter usare queste nuove strutture a disposizione per fare operazioni complesse, e abbiamo anche imparato che ci sono alcuni aspetti di questa tecnologia che sono ancora profondamente immaturi, quindi stiamo lavorando per migliorarli, stiamo costruendo forse cose nuove che non dovrebbero essere chiamate blockchain, ma distributed ledgers, quindi, diciamo, database distribuiti, sui quali adesso ci sono interessanti evoluzioni tecnologiche che stiamo sperimentando in questi mesi e dai quali ci aspettiamo molto. Ci sono tanti elementi che vi fanno vedere un futuro per questo tipo di paradigma roseo. Hai detto il termine immaturità, come vedi il mercato italiano delle aziende? Sono pronte a questi cambiamenti oppure sono ancora un po' restie? Sono un po' restie, no? Non tutte le aziende si sono, anche perché siamo in una situazione strana, in cui abbiamo da un lato la tecnologia, adesso stiamo cercando quali problemi risolvere con questa tecnologia, di solito è il contrario, di solito uno ha i problemi e cerca una tecnologia per risolvere. Quindi capisco che non sia proprio così ovvio che le aziende si gettino in qualcosa che è dimostratamente un po' immaturo, non si capisce bene su quale problema applicarlo. Dall'altro lato però, e parlo per esempio per il finance, quando il finance si è messo a fare sistema ha generato immediatamente un grande valore. Un caso esemplificativo di questo è quello che è in corso d'opera, pilotato dall'Associazione Bancaria Italiana con Abilab, in cui uno dei più grandi network operator bancario ha messo a disposizione le proprie infrastrutture, inventandosi un modo per collegare tutte le banche con la blockchain. 14 banche si sono messe a fare un unico use case tutte insieme, sotto il coordinamento di Abilab, e sta venendo fuori una roba super bella, nel senso che è proprio un approccio di sistema. Quindi abbiamo dimostrato una volta in più che se vogliamo e se ci mettiamo insieme riusciamo a fare cose molto sofistici. Gli innovatori non devono essere isolati? No mai, anzi noi facciamo proprio network in modo pazzesco. La sfida più grande per Mediolanum l'anno prossimo qual è? Continuare, la sfida più grande è rimanere a così alti livelli di qualità nel servizio verso i clienti. Non dobbiamo cedere alla tentazione di diminuire la qualità e la relazione che siamo in grado di erogare. Noi abbiamo una grande forza che è la nostra rete di vendita, dobbiamo continuare ad aiutarli sempre di più per continuare a mantenere molto alta la relazione con il cliente. Grazie a te. Grazie. Grazie. Grazie.